lui le ha detto vieni voglio darti l'ultimo abbraccio lei si è fidata ed è andata incontro alla sua morte l'abbraccio è stato violento da stritolarla da toglierle il fiato da fermare il cuore giulia lazari è morta dopo nove giorni di coma in ospedale aveva 23 anni viveva ad adria aveva una bambina di 4 anni il papà roberto lococco 28 anni è stato arrestato per omicidio volontario buongiorno mattina grazie 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 grazie